Quarta giornata Super Cup, di fronte ci sono i White Wolves contro Giornate, risultato 1-0 per i White Wolves. Palla all'essere in avanti, Montanari esce ancora in avanti, non riesce ad imprimere la giusta protezza. Poi ripartono le giornate, palla letteralmente spazzata, senza complimenti. Palla ancora in avanti, sedi d'impalli. Un'azione, un'azione, un'azione. Palla che finisce tra le mani dei portieri. Alza questo pallone, poi ancora il giocatore delle giornate. Centrocampo, Braseggio Carofalo. Alza il pallone dall'altra parte, fallo laterale. Favore di giornate, per ancora la palla in avanti, il tiro dalle mani dei portieri. Chiudiamo qui il nostro collegamento, sulla fine del primo tempo.